Ovviamente potremmo inviare il giudiziale. Stamattina qui, oggi come dicevo, noi abbiamo fatto un sacco di consigli comunali di vasti politici. Io ci volevo, diciamo, lanciare molto quello che è accaduto in questi mesi tra comunicati, manifesti e conferenze stavate. Però oggi, più che mai, doveva essere c'è un impasto politico per spiegare alla città che cosa era successo e all'interno di centi all'interno della maggioranza. E come mai invece c'è stato un anno di mobilismo verso la città. Vedete, dopo 10 minuti di mobilismo questa maggioranza che porta il Consiglio Comunale del Regolamento? Un regolamento che noi abbiamo sostenuto in via presidenziale di altri consigli comunali, che doveva essere un po' una carta costituzionale. Noi la chiamiamo, vedete? Dopodiché questo argomento è diventato parte integrante di un taglio dell'amministrazione, quindi da un atto politico avete, diciamo, fatto perdere il contenuto che ha un ragionamento di partita. Ebbene, sta a dire, dopo tutto quello che è accaduto in questa città, tutto e di più, il problema non è il contenuto del argomento, ma è il problema della tenuta di una maggioranza che ancora ha costato attuale non c'è. Voi ne chiedete, dunque, 4, 6, 8, 10 consiglieri su 14. Quindi voi vi mostrate di non avere una coesione su uno dei primi punti fondamentali, i primi punti fondamentali che voi non avete, se è giusto, perché non è andato. Ad esempio, comunque ci stanno vedere, è un senso importante, voi avete fatto un documento politico dove avete detto che avreste rilanciato questa amministrazione con tre, ovviamente, punti programmatici che sono regolamenti, punti e pianografici. Ebbene, oggi all'avvento di questo primo consiglio comunale, dopo tutto quello che è accaduto, non avete la maggioranza. Quindi voi dovete spiegare alla planità quello che è accaduto, quello che è cambiato, che secondo noi ma che è cambiato nulla, e come si è legata avanti. Grazie.